terzo video ragazzi si comincia proprio da dove l'avevamo lasciato ok ah deve essere bellissimo le vici ah ah finite la zuppa ragazzi i vitelli sono morti per questo ah è stato un blocco totale oh troppo veloce ecco oh un dente d'oro oh oh ma attaccano ecco 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 Nooo, sono morto! Dove sono andati gli alpegni? Ma... Chi è quello? Ah, torna qua! Sparei! Ah, non si farà più! Nooo! 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 Leggi come se la tua vita dipendesse da questo, perché così raccogli queste perle bianche per prevenire il prematuro arrivo ai cancelli del cielo, e i miei amici i denti fanno comodo e tu migliorerai la potenzialità delle armi. Ah, e cosa servono i denti? Oh! Potenziamo la lama! Il treno è andato più! Il calpellaio ha sempre odiato i malfunzionamenti meccanici. Questo disastro è opera sua o è suo epitazio? Nooo! 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 Perché non plana? ... Aaaaaah! Aaaaah! Aaahh! Questa volta t'ho beccato. Shit happens. Beh, non mi rimane che andare avanti. Ormai dovrei essere da capa daio matto, è pieno di tazze. È pieno di mattoidi. È pieno di mattoidi. No, c'è! È pieno di mattoidi. È pieno di mattoidi. Questo ha il coperto di una tacchina come scudo e una forchetta come arma. È pieno di mattoidi. Ah, è pieno di mattoidi. Ah, devo schivare. Ah, è pieno di mattoidi. È pieno di mattoidi. No, un altro. È pieno di mattoidi. Ah, è pieno di mattoidi. È pieno di mattoidi. non è pieno di mattoidi. Sì, è pieno di mattoidi. No, non è pieno di mattoidi. È pieno di mattoidi. Sono feti di mattoidi. Ho beccato... ho finito dentro e non avevi idea di cosa mi fa interessare boh no no ho letto no no ho letto ma cos'è un bug? basta, andiamo ah fristotale ok buon non so neanche a cosa servono le bottiglie ahhh termine del video ragazzi mi dispiace ci vediamo alla prossima